Voglio andare a vivere da soli. Già, bravo. Come se fosse facile. Per prima cosa ci vogliono i soldi. Secondo, la casa. Terzo, metterla a posto. E poi scusa, e poi cosa fai? Beh, e adesso che si fa? Ma non so, leggiamo, parliamo. Pronto mamma? Sono io. Io chi? E poi si resta soli. Vado a vivere da solo. Giovedì alle 20.30 su Italia 1.